Con l'arrivo di settembre, periodo di ripartenza e opportunità, Stefano De Martino intraprende un nuovo capitolo della sua vita sia come padre che come conduttore. Mentre il figlio Santiago affronta il primo giorno di scuola media, De Martino si prepara a condurre, Affari tuoi, su Rai1, un'importante sfida professionale per il noto ballerino e presentatore. Attraverso i social, Stefano ha condiviso la sua emozione, trasformando questa giornata in un momento di forte significato per entrambi. Stefano De Martino, emozione e orgoglio per il primo giorno di scuola di Santiago. Il primo giorno di scuola rappresenta un momento cruciale nella vita di ogni studente e oggi, questo compito è toccato a Santiago De Martino, figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Con il suo zaino nero The North Face e un abbigliamento casual, Santiago ha varcato la soglia della nuova scuola media, pronto ad affrontare nuove esperienze e sfide accademiche. Stefano, che ha accompagnato il giovane all'istituto, ha voluto immortalare questo momento speciale condividendo una foto sui social media. L'immagine rappresenta non solo la felicità di un padre, ma evidenzia anche l'importanza di questo passaggio per l'intera famiglia. La nuova avventura scolastica di Santiago segna l'inizio di un periodo di crescita personale, fatto di nuovi amici, insegnamenti e opportunità. La scelta di una scuola media rappresenta un passo importante nell'educazione di qualsiasi ragazzo, e De Martino lo sa bene. Santiago, già noto per la sua vivacità e curiosità, si avvia verso un ambiente che promette di stimolare la sua intelligenza e creatività. Questo primo giorno è per lui un mix di emozioni, entusiasmo, nervosismo e la voglia di farsi notare in un contesto del tutto nuovo. Santiago è cresciuto sotto gli occhi dei riflettori, ma oggi, supportato dall'amore e dall'orgoglio di suo padre, si affaccia al mondo della scuola con il coraggio e la determinazione necessari. Per Stefano De Martino, vedere il figlio crescere e diventare indipendente è certamente motivo di grande emozione e soddisfazione. Stefano De Martino si prepara al debutto su Rai 1 con, Affari tuoi. Mentre Santiago affronta il suo primo giorno di scuola, Stefano De Martino non è da meno nel prepararsi a un grande debutto nel mondo della televisione, il conduttore si appresta a prendere le redini di, Affari tuoi, un programma iconico del preserale di Rai 1. Questa nuova avventura segna un momento chiave per la carriera di De Martino. Dopo aver condotto programmi di successo come, Made in Sud, e, Stasera tutto può succedere, questo rappresenta per lui una nuova e significativa sfida. Affari tuoi, ha una lunga storia alle spalle, avendo intrattenuto il pubblico italiano per anni, con grande partecipazione e attesa per le dinamiche che si svolgono all'interno del programma. Con il suo passato brillante, Stefano ha il compito di mantenere viva l'attenzione degli spettatori, cercando di conquistare il cuore del pubblico con il suo stile unico e il suo carisma. Il programma, noto per le sue meccaniche di gioco e il coinvolgimento emozionale dei partecipanti, è un banco di prova essenziale per De Martino, già apprezzato nel panorama televisivo. Sarà interessante vedere come saprare interpretare questo format così amato, costruendo il suo personale approccio. Stefano De Martino non è nuovo a sfide di questo tipo, ma il passaggio a, affari tuoi, rappresenta un grado di responsabilità e notorietà ancora più alto. Il debutto di De Martino è atteso con trepidazione, non solo dai suoi fan ma anche dal pubblico di Rai 1, che si aspetta tanto dalla sua conduzione. In un giorno pieno di emozioni e nuovi inizi, il conduttore e il giovane Santiago segnano due capitoli distinti ma paralleli, entrambi seguiti con affetto da una platea sempre più affezionata.